Raga, per la serie, quando i tuoi follower non stanno bene con la testa, ma non stanno bene con la testa perché neanche tu stai tanto bene e probabilmente neanche Oda se tira fuori certe cose, escono fuori dei video decisamente particolari. E il caro Ivan, quello che ci fa venire gli infatti durante le live, sì è proprio lui, ha fatto una ricerca particolarissima che poi ha tramutato in uno schema. Allora, tutto questo potrebbe sembrare un qualcosa senza senso. Uno guarda questo video e dice, sta roba non ha senso. Partiamo dal fatto che tutto ha senso anche ciò che non ha senso e qualsiasi cosa viene trattata, se trattata in un certo modo può renderci un pochettino più consci che esiste qualcosa nel mondo, quindi qualcosa di cultura in più, impariamo qualche nozione in più, ma in realtà io sono consapevole che effettivamente i miei video non sono a comparto stagno, non è che ogni video nasce e finisce là. Io cerco sempre di preseguire un percorso e chi subentra non conoscendo i video precedenti giustamente dice, ma di che cosa sta parlando questo qua? Quindi per capire bene questo video potete tranquillamente guardarlo e poi recuperare quello sul punto debole di Nika che vi lascio in descrizione. Fatto quello potete tornare qua o viceversa, da qua andati lì, poco cambia. Iniziamo. Che cosa succede? Allora Ivan, incuriosito dalla figura di moda di cui avevo parlato in un video, va a vedere che i genitori si chiamano Koda e Kugi e dice, Oda è uno estremamente giocoso nei giochi di parole e quindi è andata a vedere se giocando con i nomi dei genitori usciva fuori qualcosa ed effettivamente se prendi Da e Kiu, quindi l'ultimo e la prima parte, esce fuori il Da Kiu che è uno sport in cui si utilizza un bastone e effettivamente Moda viene ritratta nel manga anche tirando una bastonata in testa a un personaggio e dice, solo coincidenze, chissà, magari sì. Che cosa fa poi? Prende il primo e la parte finale, Koji e qua si apre un mondo, si apre un universo incredibile. Perché il Koji, conosciuto anche come Asperigullus a qualcosa Asperigillus orizae è un fungo, è un fungo, dichiarato fungo nazionale del Giappone nel 2006 Che cosa serve questo fungo? Anche a produrre alcune varietà di sake Attenzione! Che cosa vediamo nello schema? Allora, per il sake ci dice Koji giallo estremamente sensibile alla temperatura gradualmente è stato sostituito dal Koji bianco o nero quindi era stato scoperto quello giallo però era troppo sensibile alla temperatura e si è spostati sul Koji bianco e quello nero. Quello nero è il Lawamori produce una grande quantità di acido citrico le sue spore si disperdono facilmente coprendo gli impianti di produzione ed i vestiti dei lavoratori di uno strato nero è molto interessante questa cosa perché questo sembra quasi un po' il potere di Teach in qualche modo e poi capiremo perché sto dicendo questo invece il Koji bianco, il Sochoo, è stato scoperto quando è stata osservata la mutazione naturale con la trasformazione di alcuni Koji neri in bianchi quindi il Koji nero mutava e diventava quello bianco tenete in considerazione questa cosa poi ci spiega addirittura come avviene la produzione sappiamo che il sake nel 99 per cento dei casi è prodotto dal riso e attenzione, il sake è proprio il sake non il sake come alcolico in generale allora riso uguale amidi non fermentabili cosa succede? con queste spore di questo Koji nel riso si riesce a creare una scomposizione di zuccheri semplici che quindi diventano fermentabili e quindi da là si può produrre il sake mi sposto un po' in alto e vi faccio vedere questa slide che scomponiamo in due parti perché ci fa capire tolto che davvero qualcuno su YouTube sta parlando dei funghi in One Piece sì, questi siamo noi quindi per quello non stiamo tanto bene con la testa ma è bellissimo così se no che ce ne frega di parlare di One Piece a noi allora, lui lo divide perché c'è una spiegazione su un certo tipo di fungo e poi anche dei riferimenti ai capitoli nei funghi cioè quindi non è una cosa campata in aria nel manga esistono questi riferimenti e guardiamoli subito allora, analizziamo il capitolo 514 funghi che crescono sul corpo noi vediamo un Luffy e siamo ad Amazon Lili con le Kuja e vediamo che Luffy praticamente tocca questi funghi poi li mangia inizia a ridere come un matto e dice è divertente anche se sono solo perché vi ricordate che in quel momento comunque lui non è che stava passando un bel momento e si ritrova poi ricoperto da tutti questi funghi ma mentre li mangia ride e quindi già si parla di un'allucinazione praticamente o comunque di un alteragli letteralmente gli sta alterando lo stato d'animo perché ride in un momento in cui tecnicamente non dovrebbe ridere quindi che cosa succede? noi sappiamo che nel mondo di One Piece ci sono dei funghi che alterano lo stato d'animo di una persona che in questo caso tecnicamente non dovrebbe ridere e quindi qualcosa alimenta la risata qualcosa questi funghi alimentano la risata poi vabbè che gli crescono tutti addosso il classico effetto collatorale che potrebbe essere soltanto parte gag però se noi torniamo un po' indietro siamo nel capitolo 143 che intitola Inesperto perché ciò per curare i luk che voleva trovare questo fungo famosissimo se vi ricordate bene infatti c'è un flashback in cui c'è funghi sì, avevano il compito di trovare dei funghi e sembrano essere in grado di curare ogni malattia e Chopper pensa di averlo trovato l'ho trovato e l'ha mudache il fungo però poi scopriamo che in realtà non era così ma noi sappiamo anche una cosa molto interessante che Teach era andato a Drum e a Drum stava cercando qualcosa che cosa stava cercando? non è che stava cercando anche lui un fungo a questo punto? perché qualcosa lì stava facendo ma ancora non abbiamo ben capito che cosa con questa slide capiamo che oltre al concetto che nel manga il discorso dei funghi è stato trattato da Oda quindi non è una cosa folle allora dobbiamo ragionare su questo concetto qua allora è attualmente lo shiitake il secondo fungo commestibile più consumato al mondo dopo lo champignon e tra l'altro Kikuchi-shi prefettura di Kumamoto questa è un'area in cui i funghi shiitake che crescono selvatici fin dall'antichità ed è caratterizzata da meno pioggia e più nebbia rispetto alle aree circostanti provate a indovinare una cosa? la prefettura di Kumamoto è quella dove è nato Oda quindi attenzione è una prefettura in cui lui è nato e quindi conosce cose conosce sicuramente è un qualcosa che è fiuta che è di quotidianità perché vive in una zona di un certo tipo è un po' come chi vive nelle zone delle olive dei peperoni e di altre situazioni quindi le conosce molto bene poi ci dice i funghi shiitake sono funghi ricchi di aminoacidi essenziali e minerali ferro, manganese, potassio, calcio, magnesio ma soprattutto un'ottima fonte di vitamine e in particolare la vitamina D la vitamina D che è quella vitamina famosissima dell'esposizione al sole io vi butto informazioni poi traetene voi le conclusioni poiché i funghi shiitake sono coltivati all'aria aperta in un clima fresco hanno un ricco gusto umami l'umami è quando è quel gusto e quella terminologia con una cosa umami è una consistenza gommosa io vi sto dando queste informazioni ripeto traetene voi le conclusioni ma dobbiamo tornare indietro ma perché sto tornando indietro? perché tutto nasce da moda moda la lattaia ok la lattaia che è lei salva Ace dall'annegamento poi lui ricambia con tutta quella mini avventura e tra l'altro si passa anche dall'ulusia e questo argomento potrebbe essere un argomento molto particolare ma vediamo semplicemente una cosa perché questo koji serve anche per il latte tra i principali additivi utilizzati nelle diete di illuminanti in particolare delle bovine da latte vi sono i funghi come il koji che si usano che non si usano vivi ma sotto forma di estratti fermentati fermentati quindi la fermentazione ricchi di enzimi questi enzimi aiutano la microbiota luminale a degradare fibre amidi e proteine migliorando la digestione potenzialmente la produzione del latte vi ricordate anzi io non so se continuarlo il ragionamento perché sul discorso latte voi direte discorso latte sì anche qua Oda nella gag potrebbe aver nascosto qualcosa ve la ricordate la gag di Brooke e Luffy che bevono e gli ricresce il dente a entrambi ok su Brooke dite vabbè il calcio il latte ma perché anche Luffy io non voglio sovraccaricarvi di informazioni e quindi il percorso è stato punto debole di Nika con il discorso della serotonina e con il discorso del Tujone ok che va a inibire la serotonina quindi la felicità e quindi potenzialmente potrebbe inibire il personaggio Luffy o potrebbe inibire il frutto Nika per poi spostarci alla concezione del Koji che comunque sono dei funghi di cui appunto abbiamo visto narrazioni all'interno del manga che servono per la produzione del sake ma anche per quella del latte indirettamente anche per quella del latte quindi se questa parte vi è piaciuta poi potremo fare lo step successivo e trattare quella del latte raga come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate io ringrazio Ivan per questo colpo di genio chiamiamolo così e niente ci vediamo nei prossimi video pensate ci ragionate e traete le conclusioni qua nei commenti